Ciao a tutti ragazzi, ciak, azione, e la maglia dei miei contro te? Ciao a tutti ragazzi, eccomi con un nuovo video. Oggi apriremo la mystery box dei miei contro te, pagata a 50 euro. Ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Ciak, azione. Apriamo la mystery box. E come prima cosa trovo questo. E' il pennarello magico che si fa sopra. Ah, quello là che la punta è bianca e poi disegni e diventa tutto colorato. Bello. Poi, oh mio Dio, no, non ci credo. Il raccogliatore dei miei contro te, guardate dentro, è completamente finito. Wow. Vediamo. Ah, 5 bustine dei miei contro te. 2, anche se sono già finito l'album, però sempre utili. Allora, allora, sono rimaste tre cose. Il fantalibro. Oddio. E' nuovo come vedete. Tutto nuovissimo. Bellissimo il fantalibro. Ultime due cose. Allora, passiamo di qua, proviamo ad aprire di qua. Ok. Lo slime, lo slime dei miei contro te. Con l'immagine di loro due. L'ultima cosa. Oh, chi sa cosa sarà. Oh, mio Dio. No, vabbè. No, non ci credo. E' la maglia dei miei contro te. Mi ha autografata. Oddio. Sono troppo felice. Sono troppo felice. Questa era la mystery box. La trovo bellissima. Ah, il ritorno delle ciabatte ad hamburger. Cioè, ho trovato il raccoglitore che costa 5 euro, 4 euro e 90. Con tutte le figurine dentro. Questo coso che non so che cos'è. 5 figurine. Uno slime. Il fantalibro nuovissimo. E la maglietta autografata. Credo che la maglietta autografata vale 30 euro. E' autografata. Comunque, il video è finito qua. Spero che vi è piaciuto. E ciao! Ciao!